A Malina, Filippine, un autobus ha perso il controllo ed è precipitato in un burrone causando almeno 16 vittime. Numerosi soccorritori, tra cui polizia, esercito e squadre di soccorso provinciali, hanno lavorato intensamente per recuperare le vittime dalle macerie. Utilizzando Barella e Cordia hanno effettuato un complesso e prolungato salvataggio durante tutta la notte. La ricerca delle vittime è stata completata nelle ore notturne, ma le autorità provinciali hanno esortato i leader locali a informare immediatamente il personale di emergenza nel caso in cui venissero scoperte ulteriori vittime nella densa vegetazione del fondo del burrone. Gli incidenti stradali mortali sono purtroppo frequenti nelle Filippine a causa della scarsa applicazione del codice della strada, del cattivo stato dei veicoli e delle condizioni pericolose delle strade, che includono segnaletica di sicurezza inadeguate e barriere insufficienti nelle zone montane e nelle province remote.